Bene, allora dopo il commento di Senio Sensi, il secondo ospite di sabato, Michele Pinassi, grazie di essere qui, Movimento 5 Stelle, quindi ci dà la possibilità di fare quello che dovrebbe essere in democrazia, abbiamo sentito il sindaco, adesso c'è il rappresentante dell'opposizione di quel gruppo che ha organizzato la mozione di sfiducia, ne leggiamo rapidamente nei confronti di Valentini, ne leggiamo rapidamente alcuni passi, considerato il pesante danno d'immagine provocato alla città di Siena a seguito degli avvisi di garanzia relativi ad atti compiuti durante il precedente mandato dal sindaco a Monteligioni, l'evidente immobilismo amministrativo di questa giunta nei confronti di una città che necessita invece di urgenti e coraggiose opere di rinnovamento e sviluppo e poi ancora valutato il sostanziale tradimento delle promesse elettorali, le gravissime mancanze delle amministrazioni, quali ad esempio la carente applicazione dei principi etici, la mancata ricerca della verità sulla vicenda di Banca e Fondazione Monte dei Paschi e così via, fino a chiedere appunto la sfiducia del sindaco. A questa mozione del Movimento 5 Stelle, in epoca in cui le opposizioni si fronteggiano per conquistare campo ovviamente di consenso, stanno aderendo in tanti. Ci volevano 13 firme per poterla presentare, 13 firme ci sono, le ultime adesioni, quelle dei consiglieri comunali di Nero su Bianco, Alessandro Piccini e Isabella Becchia e poi anche Pietro Staderini di Sena Civitas. Ma questo lo abbiamo accolto positivamente e lo abbiamo anche dimostrato accogliendo, lo ammetto, con un certo piacere, le proposte di modifica che sono arrivate da alcuni consiglieri di opposizione, anche perché il nostro intento è quello di arrivare a una discussione in Consiglio Comunale su quanto ha fatto e quanto sta purtroppo non facendo questa amministrazione. Il nostro obiettivo è appunto stimolare e sollecitare il dibattito, ma non solo nell'aula consigliare, che alla fine rimane un po' una sorta di mondo a sé, ma soprattutto fra i cittadini e nella città, perché a noi interessa che le vicende politiche che investono l'amministrazione comunale arrivino nel dibattito cittadino, debbono essere i cittadini i primi ad interessarsi di quello che accade nel loro comune. Noi, lo abbiamo sempre detto, siamo umili portavoce al servizio della cittadinanza, così come il Movimento 5 Stelle credo che sta dimostrando anche in altre occasioni e non voglio sottolineare, anche se credo sia doveroso, quanto sta accadendo proprio in questi giorni per quanto riguarda la vicenda di Quarto. Noi non siamo attaccati alla poltrona, noi vogliamo però portare la voce dei cittadini all'interno delle amministrazioni pubbliche. Questo è il nostro obiettivo e la mozione di sfiducia va in questa direzione. Noi ci auguriamo a questo punto che le intere forze politiche di opposizione aderiscano alla nostra, è un po' detto male, diciamo a questa iniziativa a noi interessa cercare il consenso in questo caso, perché lo ripeto, vogliamo arrivare al dibattito. Ho capito. Il dibattito, lo sappiamo, le mozioni di sfiducia rappresentano una dinamica classica fra opposizione e maggioranza, poi la maggioranza ovviamente è probabile che faccia quadrato intorno a Valentini. Abbiamo sentito però poco fa Valentini dire che c'è bisogno di una stagione nuova fra opposizione e maggioranza. Siamo assolutamente d'accordo, ma questa volta è che la maggioranza cambi e che il PD si abitui anche a fare un po' di opposizione, perché è facile dire stagione nuova, ci vuole confronto, ci vuole tutto, quando in realtà i primi a non accettare il confronto sono proprio coloro che seguono fra i banchi della maggioranza e una giunta assolutamente sorda alle esigenze della città. Lo hanno dimostrato anche agli ultimi consigli comunali, quando hanno platealmente e in questo anche parte dell'opposizione bisogna sottolinearne responsabilità, hanno bocciato platealmente la nostra proposta di iniziare un percorso di studio e di approfondimento sul reddito di cittadinanza, come hanno fatto per esempio la giunta Nogarin di Livorno, promuovendo una forma di supporto alle famiglie che si trovano in difficoltà e proprio in questi giorni sulla stampa purtroppo c'è stata la tragica testimonianza di quella famiglia di Monteroni che si trova in serie difficoltà economiche e che non ha alcun supporto da parte delle amministrazioni. Il principio di solidarietà deve essere alla base della nostra cultura e delle amministrazioni. Noi crediamo che con un reddito di cittadinanza che non è assistenzialismo e non è neanche un'elemosina si possa creare le condizioni per cui si spezza sia il ricatto del lavoro, che è una delle più importanti problematiche che vivono soprattutto i giovani di oggi, ma soprattutto si dà la possibilità alla società di ripartire anche attraverso nuove possibilità imprenditoriali che chi non ha ovviamente i mezzi minimi di sussistenza non può neanche pensare di intraprendere. Quindi si tratta di uno strumento anche per creare lavoro, per creare economia, per creare ricchezza. Evidentemente questo non è piaciuto. Dal punto di vista proprio di alcune misure che sono anche in discussione in Consiglio Comunale c'è questa questione dell'acquedotto del Fiora, delle tasse. Qui ognuno fa come di fare. Queste partecipate a un certo punto fanno loro la politica impositiva. È vero che il Sindaco ha detto a dir la verità che le tasse non si aumentano, ma c'è qualcosa di più da fare forse. Assolutamente sì, anche perché il fatto che il Sindaco dica che le tasse non si aumentano, soprattutto per questioni che non sono di diretta competenza comunale, come attualmente è la questione dell'acqua o anche della spazzatura. Perché se vogliamo la quota della Tari, che è a carico dell'amministrazione comunale di Siena e quindi dei cittadini senesi, la decide se è toscana. La quota per quanto riguarda l'acqua potabile, la decide l'acquedotto del Fiora, che lo ricordiamo sono entrambe, soprattutto l'acquedotto del Fiora, sono società miste pubblico-privato e sono società di diritto privato. Questo è l'aspetto più vergognoso che ci tengo a sottolineare. Società di diritto privato a cui partecipano anche enti pubblici, l'amministrazione comunale di Siena, se non ricordo male, siamo su una quota del 5,4% e l'altro socio, sempre pubblico, che ha una quota più importante, è Grosseto con il 4,6%, se non ricordo male, va a memoria. Ecco, io mi chiedo e chiedo ai cittadini, come possono soggetti pubblici con una partecipazione così risibile imporre la voce dei cittadini in un'assemblea dei soci, dove invece la parte privata, che è rappresentata dall'ombrone S.P.A., di cui fa parte Ancacea e quindi tutto il gruppo Cartagirone, nonché il comune di Roma, pensate voi, il comune di Roma che ha interessi economici sull'acqua pubblica che noi a Siena beviamo, come può, dicevo, imporre la propria volontà. L'acqua è un bene essenziale per la vita. I senesi, che lo sanno tutti, Siena è una città che sull'acqua ha anche costruito la sua storia e la sua civiltà, penso alla bellezza dei bottini o al museo dell'acqua perennemente chiuso, purtroppo. A Siena l'acqua è una risorsa ancora più importante, se vogliamo, soprattutto sotto il profilo culturale, oltre che ovviamente il fatto di essere un bene essenziale e indispensabile alla vita. Il fatto che sia mercificato, solamente questo, è un aspetto vergognoso. Dovrebbe essere l'amministrazione comunale a gestire in proprio il suo acquedotto, perché l'acquedotto di Siena era dei cittadini, era del comune, era dell'amministrazione comunale. Quindi non se ne capisce, anzi, se ne capisce, purtroppo, sempre seguendo le logiche del profitto, si specula e si cerca di fare profitto sull'acqua. È un aspetto eticamente vergognoso, che non riesco a concepire sotto un profilo umano più che veramente politico. Volevo fare una domanda che è un po' politica, ma anche un po' di analisi delle caratteristiche sociali della città. Recentemente in alcune vostre iniziative, vostre come il Movimento 5 Stelle, penso a quella sul caso Monte dei Paschi e Davide Rossi a Palazzo Patrizzi, o alla vicenda sulle banche, banca Etruria, all'ex Jolly Hotel, avete fatto il pieno, sale davvero piene. Questo vi dà una consapevolezza che qualcosa sta cambiando o che tutto sommato mettere 200 persone in una sala si può, ma cambiare la città no. Allora, innanzitutto siamo orgogliosi del fatto di aver organizzato ovviamente due eventi che hanno riscontrato un forte successo e anche un forte gradimento. Anche i giorni successivi si sono susseguiti commenti positivi sui social. Quindi questo indubbiamente è una nota positiva perché la nostra attività comunque sia può essere considerata tranquillamente un'attività di volontariato. Il nostro gruppo, siamo tutti cittadini che hanno lavoro, famiglie, quindi tutto il resto è un qualcosa in più che noi facciamo per cercare di rendere un servizio alla città. E quindi l'organizzazione di questi eventi andava proprio in questa direzione, cercare di sensibilizzare la cittadinanza, la popolazione su alcune tematiche di cui purtroppo si parla troppo poco. E si parla troppo poco, soprattutto di quanto è accaduta la vicenda MPS che ha dei risvolti enormi e gravissimi anche a livello nazionale. Io faccio solamente un esempio, penso all'enorme eco-mediatica che ha avuto quanto è accaduto alla Banca Etruria. Quanto è accaduto al Monte dei Paschi è molto, ma molto più grave e molto, molto più importante. Eppure se ne parla infinitesivevolmente meno. Questo è un problema che sta a significare come purtroppo c'è ancora la logica. In America dicevano too big to fail. In Italia mi viene da dire troppo grosse, troppo importanti per parlarne. C'è una coltre di omertà che ancora soffoca il dibattito sulle vicende del Monte dei Paschi e anche quella accaduta alla tragica vicenda di Davide Rossi che si incastra in uno scenario decisamente inquietante che investe personalità che vanno ben oltre i confini nazionali. Il silenzio, la scarsa quantità e anche qualità del dibattito che vi è intorno, deve lasciare pensare. Attraverso questi eventi noi abbiamo semplicemente cercato di riportare per quanto il nostro potere ovviamente la questione nel dibattito cittadino, lo diciamo ancora una volta. E quindi siamo orgogliosi del fatto che comunque ci sia una parte sempre più importante, sempre più pesante di cittadini che si interessano. Io penso che riempire due sale su due eventi di questo tipo fino a qualche anno fa non voglio dire impensabile ma indubbiamente sarebbe stato molto molto difficile. Qualcosa sta certamente cambiando. Lo dimostra il fatto che comunque sia è aumentata anche l'aggressività se vogliamo dell'establishment costituito nei confronti di quel soggetto un po' anomalo e un po' di rottura che sono onorato di dirlo in questo caso è il Movimento 5 Stelle. Si può essere d'accordo o meno con le politiche che noi portiamo avanti, certamente, però credo che sia intellettualmente onesto ammettere che la presenza del Movimento 5 Stelle adesso nello scenario politico nazionale e anche locale rappresenta comunque un elemento destabilizzante che non può che far bene all'intera democrazia sia locale sia nazionale. E quindi benvengano altre iniziative di questo tipo se le vorranno organizzare altre forze politiche saremo più che contenti di parteciparvi anche alla loro organizzazione. Io penso per esempio alla questione sanità. Ci piacerebbe intraprendere anche un percorso di confronto con altre personalità e con altre forze politiche cittadine. Ci stiamo già pensando. Vediamo se si riesce anche su un argomento diverso dal Monte dei Paschi ad ottenere lo stesso successo. Bene, grazie a Michele Pinassi di essere stato con noi. Grazie a Daniele. Grazie a tutti voi. Andiamo avanti adesso con la pagina sport in cui parleremo ovviamente di tutti gli importanti avvenimenti del pomeriggio. Ricordiamo 17.30 la Carrarese Colzena, poi alle 20.30 c'è Scafati con la Mezzana, ma parliamo anche delle vicende societarie del Sena e del sviluppo dell'inchiesta Time Out. Si parla addirittura di revoca degli Scudetti. Insomma, vedremo via alla pagina sport. Weekend ricco di appuntamenti per lo sport senese. Si inizia questo pomeriggio alle 17.30 con il derby a Carrara, fa i padroni di casa e la Robur. Altra sfida molto importante per il Siena dopo la vittoria con l'Ancona. Infatti i playoff sono più vicini. È un risultato pesante e questo pomeriggio potrebbe diventare un bel trampolino di lancio. Carboni ha il dubbio fra la difesa 3 e quella 4. Assenti, Sicuri, Opiele e Torelli, mentre Sasilotto è tornato in settimana in Brasile. Dal mercato è arrivato il difensore Beie, classe 1995, in prestito dal Novara. Guido Carboni anche questa settimana ha deciso di non effettuare una conferenza stampa di presentazione del derby. Ma non è solo il campo a catalizzare l'interesse dell'ambiente bianconero. Antonio Ponte sta infatti portando avanti le trattative per l'ormai celeberrimo socio forte che lo dovrebbe affiancare per la gestione della società. Tra le piste che sembrano ancora in piedi, Anna Durio, presidente del Rapallo Bogliasco, Michele Piscaglia, rappresentante di una società milanese che si occupa di energia verde e Luca Bergamini, attuale membro del CDA del Bologna. Ponte ha anche radunato i soci di minoranza in settimana, ma al momento non ci sono novità, mentre anche l'assessore allo sport, Leonardo Tafani, ai nostri microfoni ha parlato di situazioni da risolvere con ragionevolezza e nel minor tempo possibile per dare serenità all'ambiente. In questi giorni i tifosi sono tornati a chiedere con forza al presidente Ponte di cedere le quote della società. Sfida importantissima per la menzana che questa sera alle 20.30 al Palaestra affronterà la capolista Scafati nel secondo turno del girone di ritorno del campionato. Gara delicata per i biancoverdi che dopo la vittoria in trasferta latina attendono la Givova per cercare anche un riscatto dopo il meno 4 subito all'andata in campania. La presentazione dell'incontro dal canale YouTube Biancoverdi del coach Alessandro Ramagli. Una partita molto stimolante con la capolista, una squadra che ha tutti i meriti dalla sua per rivestire questo ruolo, un ruolo di marcia significativo, 6 vittorie in casa e 6 vittorie in trasferta. Questo a testimoniare l'equilibrio che questo roster ha a disposizione di coach per di Kizzi riesce a mettere in ogni partita. È una squadra dove ci sono due americani di grande qualità, Josh Mayo il playmaker e Jeremy Simmons il loro centro, però mi sembrano due ciliegine su una torta costituita da un pacchetto molto solido di giocatori italiani. In quintetto base Marco Portannese nel ruolo di guardia, Federico Roschi come alla piccola e Patrick Baldassarre nel ruolo di secondo lungo e poi una panchina molto lunga con Gabriele Spizzichini nel duplice ruolo di cambio del playmaker e guardia, Nicola Scro, Massimo Rezzano e da qualche settimana anche Marco Ammannato che ha sostituito uno dei due under che avevano nel quintetto allungando così la dotazione a 9 giocatori. È una squadra molto profonda, molto esperta che in attacco può avere risorse infinite nelle situazioni di blocco sulla palla, nelle situazioni di spalle a canestro, nella capacità di fare canestro a tre punti. Il cambio secondo me di rotta l'ha avuta dal punto di vista difensivo quando è riuscita con questi 9 giocatori ad avere la capacità di spalmare energia e falli su tutti i 40 minuti, quindi una partita veramente molto stimolante. Noi però siamo pronti, abbiamo recuperato i nostri due giocatori americani che sono riusciti ad allenarsi progressivamente con più costanza nel corso della settimana, c'è grande voglia, c'è grande desiderio di fare una partita di grande qualità, di portare a casa anche un risultato che sarebbe molto prestigioso, di dare una soddisfazione ai tifosi che stanno aspettando questa gara con grande trepidazione perché sicuramente vedere giocare qua la capolista con tanti nomi e vedere la propria squadra essere competitiva sarà credo la cosa che tutti vorranno vedere. Quindi noi siamo pronti, vogliamo tanta gente al palaestra, vogliamo un calore che ci ha accompagnato spesso nelle partite casalinghe, sapendo che in questa partita qua avremo bisogno di un extra sforzo non soltanto sul campo ma anche sulle tribune. Siena cancellata? Questo è il titolo apparso sulla Gazzetta dello Sport in cui si torna a parlare dell'inchiesta timeout su falsi bilanci e frodi sportive della vecchia menzana basket ormai giunta alla sua fase conclusiva. Siena rischierebbe la revoca di sei scudetti della palacanestro. Questo quanto trappella dalle pagine della Gazzetta che ipotizza ciò che potrà essere il lavoro della Procura federale una volta notificata la chiusura delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Siena. Nel fine settimana la Procura federale ascolterà l'ex coach biancoverde ed ex ct della nazionale Simone Pianigiani. Scagionato dalle indagini condotte dal sostituto procuratore Antonio Nastasi, Pianigiani, attuale supervisore tecnico della FIP rischierebbe comunque una squalifica. La gestione dell'ex presidente della menzana basket Ferdinando Minucci, già finito agli arresti domiciliari poi revocati nella 2014, è sotto accusa ma pagarne le conseguenze più gravi sembrano essere nuovamente tifosi che rischiano di vedere svanire sei titoli. Tante quante sono le stagioni finite sotto la lente delle indagini dalla 2006 in poi, un po' come accaduto alla Juve con Calciopoli. La menzana è stata dichiarata fallita il 4 luglio 2014, concludo l'articolo, ricordando l'onta che ha dovuto subire la piazza di Siena dopo gli anni d'oro delle vittorie e dei record. Un qualcosa che solo parte della tifoseria ha superato, dimostrando poi un nuovo attaccamento alla nuova realtà sportiva, oggi ne ha due, dando anche un contributo fattivo all'acquisto dei vecchi trofei finiti all'asta fallimentare. Tifosi che nei mesi scorsi avranno chiesto anche di arrivare presto alla chiusura delle indagini che, come detto, potrebbero arrivare entro la fine di gennaio con circa 50 persone coinvolte. Domenica scorsa, in un'intervista alla Nazione, anche il sindaco Bruno Valentini era intervenuto sulla tema. Paghi, che ha rovinato il sogno della menzana, aveva detto il primo cittadino. Mi batterò per quanto posso affinché gli scudetti non vadano persi. Le colpe di chi ha amministrato non possono ricadere sui titoli sportivi. Nella sedicesima giornata di regular season, terza del girone di ritorno, la Emma Villas Siena affronterà in casa propria la capolista Tonno Calippo Vibo Valencia, squadra calabrese che guarda tutti dall'alto con i suoi 35 punti. Appuntamento al palestra domani alle ore 18. Da pochi giorni fa parte del gruppo Sergio Noda Blanco, arrivato la settimana scorsa, che ha già trovato un buon flilling con i propri compagni. Lo ascoltiamo. Il progetto che ha Emma Villa, la società e tutto quanto, quindi è stato proprio al minuto. Presso la macchina e ho fatto 15 ore di viaggio e sono qua per dare una mano alla società, alla squadra. Bene, eccoci qui, il terzo ospite di sabato, in realtà non è un ospite, è uno dei nostri commentatori, Fabio Di Meo. Buongiorno, buongiorno. Con Fabio Di Meo, come dire, solitamente attenzioniamo le questioni politiche, anche quelle che riguardano la forza di maggioranza che è il PD. In questa trasmissione, forse per primi, siamo entrati un po' più nel merito di questa questione del debito del Partito Democratico in provincia di Siena, che poi è giunto a situazioni trasparenti, con cifre precise. Sbagliamo di poco, qualche mese fa, quando parlamo di circa 700 mila Euro, siamo a 800 mila Euro di debito. Qualcosa di più, insomma siamo lì. Ecco, addirittura qualcosa di più. Ecco, dico, ma chi sono i creditori? Cioè chi è che deve avere, come è maturato questo? Perché ecco, dal punto di vista del come è maturato e delle misure concrete per uscirne, non mi sembra sia stata fatta chiarezza completa oppure è un errore mio. Ma negli organismi del Partito Democratico sì, nel senso sono svolte almeno due direzioni dedicate a questo, anche nell'ultima direzione che aveva un alto ordine del giorno, in realtà alla fine, giustamente, si è finito a parlare anche di questo tema. Tra l'altro no, era all'ordine del giorno anche il piano di risanamento che prevederà una serie di azioni concatenate che riguarderanno ovviamente, come sempre accade in questi casi, la rivisitazione del debito con i creditori, che sono soprattutto sia il personale che operava per il partito sia fornitori della festa. Credo ci sarà un intervento anche del partito nazionale e poi anche attraverso l'operazione quella con l'associazione La Quercia che era già prevista e pensava alla sederita del partito di mettere in piedi anche una contribuzione straordinaria. Ora, questa ovviamente in tempi di tessere in calo drammatico penso che non sarà un'operazione facile, però a questo punto credo che sia stato sviscerato tutta la questione, nonostante che non è che esporla significa renderla meno grave. Eh certo, certo. Allora, dal punto di vista politico, proprio all'inizio di questa trasmissione il sindaco ha chiuso un po' la sala cinesca rispetto a tutte queste ipotesi di andare al voto anticipato a Siena in relazione alle vicende giudiziarie, che avranno il loro iter, sarà un iter che sostanzialmente porterà alla scadenza naturale e che è quindi quella del 2018. Ecco, nei giorni scorsi per esempio sul Corriere Fiorentino un opinionista come Roberto Barzanti ha scritto sul piano politico la maggioranza che regge il Comune di Siena deve decidersi se procedere o no ad impasto di giunta di cui si vocifera o concretizzare il più volte evocato cambio di passo. Secondo te, anche rispetto alle dinamiche interne al PD che mi sembrano sempre molto intense, diciamo, se andrà un cambio di giunta a Siena oppure no? Ormai è così tanto tempo che se ne parla che uno penserebbe che la cosa potrebbe procedere così con questo assetto fino alla fine, ma sinceramente non ho gli elementi concreti per fare una previsione. Mi pare che anche dalle ultime parole del sindaco, ma anche dalle dichiarazioni fatte da esponenti politici di maggioranza, questa necessità però di cambiare passo, di aprire una fase nuova sia stata ben evidenziata, insomma, sollicitata da più parti, sia dalla società civile che da altre forze politiche, ma credo che sia un'esigenza che sempre c'è in una città, insomma, di arrivare a un momento dell'attività amministrativa, del mandato amministrativo in cui rilanciare l'attività stessa. Questa amministrazione senese nasce tra mille difficoltà, è inutile ricordarlo e le divisioni anche interne al PD non fanno bene, però se cominciassimo un po' a distinguere cosa che nel PD di oggi, capisco che possono andare come una bestemmia, ma a distinguere la dimensione amministrativa, della dimensione politica interna, della dinamica politica interna, forse faremo un bene alla città di Siena, ma anche a tutti gli altri comuni che siamo chiamati da amministrare. Ecco, proprio rispetto alla dialettica politica interna al PD, anche al termine, le ultime riunioni degli organismi dirigenti, anche sui social è tutto uno sperticarsi, tutti insieme vinciamo, tutti insieme siamo bravi, tutti insieme cambiamo il PD, i nostri territori, tutti insieme, ma è vero? Questo tema dell'unità però va un attimo chiarito, perché non è che l'unità si richiede, l'unità al limite si pratica, altrimenti diventa un po' troppo facile nascondere o in qualche modo bypassare gli elementi che impediscono l'unità, perché non è che c'è mala fede in qualcuno che non vuole avere una linea comune con gli altri, ci sono degli elementi, delle pratiche, dei metodi, delle decisioni che non contribuiscono a far maturare all'interno del partito l'unità e poi non è che a un certo punto si può semplicemente rivendicare, altrimenti c'è qualcuno che decide e gli altri sono chiamati poi… No, se non c'è di buonismo invece di politica… Sì, di buonismo ma anche un po' di appiattimento sulla linea maggioritaria, se si vuole unità bisogna cominciare a praticarla valorizzando tutte le forze, le risorse che sono dentro il partito, ascoltando, facendo partecipare anche chi ha idee diverse, alle scelte del partito e poi a quel punto l'unità viene da sé, altrimenti diventa un po' pretestuoso di chiedere questa unità del partito, certo ce ne è bisogno, voglio dire anche una cosa un po' controcorrente, dentro i partiti c'è anche bisogno di dinamiche democratiche forti, soprattutto in un partito vasto come il PD, non è che altrimenti si confonde l'unità con l'unitarismo che è altra roba e che tra l'altro a Siena, provincia di Siena e in Toscana abbiamo provato e ha funzionato e ha funzionato poco, le dinamiche interne hanno anche un loro valore, quando diventano divisione personale e contrapposizione personale sono indubbiamente altra cosa, questo sì. Che succede a sinistra? In provincia di Siena ma anche un po' più in generale, si va verso una campagna referendaria sul referendum per le modifiche istituzionali molto intensa, molto acre che probabilmente consentirà anche di ricompattare una certa dinamica frammentata a sinistra che però pare già avere l'imprinting del déjà vu, del vecchio o meno, Renzi per esempio sta facendo questo, attenzione quello è il vecchio, io sono il nuovo, però forse un po' di imprinting di una partita già persa al di là del referendum ce l'ha. Dato questa previsione che tutto ciò che è a sinistra si ricompatterà sul referendum non è così scontato. Tutto ciò che è a sinistra in Italia non si ricompatta di fronte a niente. Sul referendum noto con dispiacere, anche io che tra l'altro sulla riforma costituzionale ho espresso anche pubblicamente il mio parere negativo, che diventa un parere negativo soprattutto se intrecciato con la riforma elettorale. Dispiace che è noto con rammarico che si sta politizzando troppo questo sconto, ma non perché una riforma costituzionale non sia elemento politico, ma io credo che dovremmo andare al voto referendario da cittadini più che da appartenenti a partito e da militanti di partito. E questo che mi permetto, con tutto il rispetto per il Presidente di Consiglio, di conservare un po' il ricatto, di dire se perdo il referendum costituzionale, anzi è detto male, se i cittadini voteranno no il referendum costituzionale io smetto di fare politica. L'ha trasformato in un referendum su se stesso. Sì, però un cittadino deve essere libero, un cittadino che dà una valutazione positiva sul Presidente del Consiglio, lo considera una risorsa per il Paese e non vuole in qualche modo perderla, deve essere però libero e si ritiene invece la riforma costituzionale sbagliata di votare no. E viceversa votare… Frato gli piace vincere facile, perché non essendoci obblighi di quorum è probabile insomma ecco che vinca. Sì, questo sicuramente se il Presidente del Consiglio si gioca le sue carte in questo modo immagino che ritenga di avere buone speranze di successo, però stiamo riformando la carta costituzionale, bisogna andare in piena coscienza a votare in base alle proprie convinzioni e non legare il futuro di un Presidente del Consiglio, di un governo e per chi milita del PD, anche del PD stesso, perché sarebbe una catastrofe, vincesse il non referendum, Renzi smette di far politica, rimaniamo completamente nel vuoto più assoluto, io credo che sia un elemento di inquinamento del referendum in questo modo. Bene, grazie a Fabio Di Meo di essere stato con noi, grazie. Grazie a voi. Noi andiamo adesso in redazione da Susanna Guarino per l'aggiornamento delle notizie di giornata. A te Susanna. Grazie Daniele, hai già dato notizia della nomina di Daniele Pitteri a direttore della Santa Maria della Scala dopo le dimissioni di Calbi, ma ci sono da registrare le prime perplessità su questo nuovo nome che arrivano sui social da tanti senesi ma anche da qualche esponente politico. Pitteri, dicono, non è uno storico dell'arte ma un docente di comunicazione e marketing che in passato ha avuto solo sporadici contatti con il mondo culturale e artistico senese. Grande eco hanno riscosso le dichiarazioni del priore dell'onda Massimo Castagnini che attacca la giunta comunale in merito alle vicende paliesche. Andiamo a sentire che cosa ha detto il priore Castagnini. Questa conferenza è stata ritenuta necessaria soprattutto a valle di quella è stata la delibera sanzionatoria da parte della giunta dopo un'attenta analisi su quelle che erano state le determinazioni, ovvero sia lo scritto all'interno della delibera che aveva reputato, era stata reputata a tardivo e irregolare l'esposto presentato dalla contrada, serviva solo ed esclusivamente per fare chiarezza che questo non è in realtà accaduto in quanto che nella stessa relazione deputata della festa viene riportato come la contrada aveva consegnato il 21 di agosto il suo esposto corredato da 17 fotografie. Da questo emerge chiaramente l'irregolarità. Allora, le riflessioni, l'analisi che abbiamo fatto nel frattempo ci potevano portare anche a prevedere di percorrere altre vie attraverso degli esposti ad altre sedi. Abbiamo riflettuto molto su questo, si è preferito ristabilire la verità attraverso questa conferenza stampa, una verità documentata, documentabile, che a questo punto ci porta a ritenere per noi concluso la vicenda sanzionatoria, la vicenda paliesca del 17 agosto 2015. E' stato questo fatto per il rispetto per le istituzioni senesi, per il palio, per le contrade stesse. E' l'avvocato Lucia Secchi Tarugi, la nuova consigliera di parità in provincia. L'attività della consigliera è orientata al mondo del lavoro con l'obiettivo di intraprendere ogni iniziativa utile per sostenere politiche concrete di pari opportunità. E con questo ti rendo la linea, Daniele. Bene, siamo arrivati in fondo a Di Sabato, questa prima trasmissione del 2016 e come sempre entrano in campo in questa parte finale, ma molto seguita e ci fa davvero piacere dalla nostra trasmissione, le rubriche e quindi lingua senese, Simonetta Losi, le parole sono importanti di Francesco Riccio e poi il weekend da scoprire di Roberto Guigiani. Vediamo. In questa puntata analizzeremo un verbo molto comune, il verbo andare, che sia nel contado che in città si declina al presente come io vo. Ma sono soprattutto le forme del passato ad essere fortemente caratterizzate. L'imperfetto, andevo, andevi, andeva e il passato remoto. Io andetti o andiedi, tu andesti, lui andette o andiede, noi andemmo, voi andeste. La forma più varia è la terza persona plurale, andiedero, andettero, andettano addirittura e anche la forma contratta, andonno. Il congiuntivo invece è quasi fantoziano, con vada e andia, vadino e andiano. L'imperativo, molto usato anche dentro le mura, è niamo, mentre il participio passato di diretta derivazione latina è ito. Molte sono le espressioni idiomatiche. Una persona che ha fame, per dirlo in maniera elegante con il linguaggio della medicina, si dice che è in crisi ipoglicemica. Con il verbo andare, declinato in forma senese, si dice si sente andare via. Quel languorino che ci riporta a una nota pubblicità di cioccolatini di qualche anno fa, a Siena si dice che è un'avveligione, si dice mi senta avvelì dalla fame. Il termine avveligione veriva dal verbo avvilire e rende bene l'idea di una persona in carenza di zuccheri e di energia. Se qualcosa va a rosoli, va a monte, va a scatafascio, si dice che va alle ballodole. Perché questa curiosa espressione? Vediamo un po'. Andare alle ballodole è un antico modo di dire in Toscana che deriva dal nome di un luogo presso Firenze, vicino a Trespiano, dove ora è il cimitero, che in antico era proprio alle ballodole. Quindi se qualcosa va alle ballodole, muore, fa veramente una brutta fine. E' ancora un toponimo ad esprimere una minaccia allusiva. Passare da busseto, andare a busseto. Una persona che è passata da busseto e che è tronca, oppure una persona anziana, va a catonne, cioè va piano piano. Uno che se ne va per i fatti suoi, invece, va a pesuventi. Chi rischia di ammattire, rischia anche di traslocare, di andare al 26, che è il vecchio numero civico dell'ospedale psichiatrico di San Nicolò a Siena. Con i cittini si va fuori a fare una passeggiata, oppure si va a giocare in piazza. Si va ai mimmi, usando un termine della lallazione infantile. Fate attenzione se avete un marito, un fidanzato, una fidanzata che ama gli animali. Perché se è andato a gatta, lui si è divertito, ma per voi la cosa tanto positiva non è. Buon pomeriggio. Jacques Prévert è stato per più di una generazione una sorta di colonna sonora. E la creatività di questo artista poliedrico si è dispiegata in tanti campi, dal cinema al teatro alla poesia. In ambito poetico noi lo ricordiamo in particolar modo come straordinario poeta d'amore, un poeta sotto questo aspetto, i cui testi sono stati ampiamente saccheggiati dal linguaggio della pubblicità come dal linguaggio della canzone. Però Jacques Prévert, che fu molto vicino ad esempio ai surrealisti, che per molto tempo ha creduto in un teatro sociale, è anche un poeta civilmente impegnato. È un poeta, ad esempio, che non canta soltanto l'allegria, che non canta soltanto la gioia dell'amore, ma che canta anche l'orrore della guerra. Quella guerra, in particolar modo la prima guerra mondiale che lui direttamente aveva conosciuto. E la guerra, come tema, è al centro anche di una delle sue poesie più famose, Barbara. La guerra e la pace. La pace non è mai nominata in questa poesia, però la pace è continuamente allusa. È continuamente allusa perché la guerra è presentata proprio come la negazione di quel quotidiano, di quei piccoli e grandi gesti che hanno bisogno della pace per potersi dispiegare ampiamente. Ed ecco allora, in questo linguaggio chiaro, diretto, ben lontano da certe astrattezze del simbolismo francese, ecco allora la bellissima Barbara. Ricordati Barbara, pioveva senza tregua quel giorno su Brest, e tu camminavi sorridente, raggiante, rapita, grondante, sotto la pioggia. Ricordati Barbara, pioveva senza tregua su Brest, e tu hai incontrato il rio de Siam. Tu sorridevi, sorrideva anch'io, ricordati Barbara, tu che io non conoscevo, tu che non mi conoscevi, ricordati, ricordati comunque di quel giorno, non dimenticare. Un uomo si riparava sotto un portico, e ha gridato il tuo nome, Barbara, e tu sei corsa incontro a lui sotto la pioggia, grondante, rapita, raggiante. Gettandoti tra le sue braccia, ricordati di questo, Barbara, e non volermene se ti do del tu, io do del tu a tutti quelli che amo, anche se non li ho visti, che una sola volta. Io do del tu a tutti quelli che si amano, anche se non li conosco. Ricordati Barbara, non dimenticare questa pioggia buona e felice, sul tuo viso felice, su questa città felice, questa pioggia sul mare, sull'arsenale, sul battello du Zan. Oh Barbara, che cazzata la guerra, e cosa si è diventata adesso, sotto questa pioggia di ferro, di fuoco, acciaio, sangue, e lui che ti stringeva fra le braccia, amorosamente. È forse morto disperso, o invece vive ancora. Oh Barbara, piove senza tregua su Brest, come pioveva prima, ma non è più così e tutto si è guastato, è una pioggia di morte, desolate e crudele, non è nemmeno più bufera, di ferro, acciaio, sangue, ma solamente nuvole che schiattano come cani, come cani che spariscono, seguendo la corrente su Brest, e scappano lontano, in potridire, lontano, lontano da Brest, dove non c'è più niente. Buon pomeriggio. Il protagonista assoluto di questo fine settimana è senz'altro l'archeodromo di Poggi Bonzi, la ricostruzione filologica, secondo quelle che sono stati i ritrovamenti degli archeologi, di un villaggio alto medievale che si trova proprio a fianco della fortezza di Poggio Imperiale. In questi momenti, mentre vi sto parlando, viene inaugurato un nuovo pezzo dell'archeodromo, con tutta una serie di attività culturali e divulgative. Non vi preoccupate se non potete andarci proprio adesso, ma seguite con attenzione il programma di attività dell'archeodromo stesso, che è un esperimento molto interessante e originale di divulgazione culturale e storica. Domani, domenica, è la festa di Sant'Antonio Abate, patrono degli animali, e un po' in tutta la provincia di Siena, come negli altri territori, ci sono manifestazioni dedicate a questa festività, a questa ricorrenza. Credo di poter suggerire, perché la reputo la più completa, quella di Torrita di Siena, dove c'è una tradizionale fiera di Sant'Antonio, con la benedizione degli animali, naturalmente, alle 10 di mattina, e però anche tanti altri appuntamenti, visite guidate, incontri di carattere culturale, stand gastronomici, sicuramente una buona occasione per andare a Torrita di Siena e visitare magari poi anche il territorio circostante della Val di Chiana. L'Onda Lunga di Siena 2015, capitale italiana della cultura, prosegue anche in questo nuovo anno, in questo 2016, perché alla Santa Maria della Scala sono ancora in corso due mostre iniziate da alcuni mesi. Una, quella dedicata a Paolo Mascagni e la scuola di medicina del Settecento, con un ruolo insolito e importante, ha avuto anche da Napoleone Bonaparte, dura fino agli inizi di aprile, quindi avrete tutto il tempo per poterla visitare. Finisce invece, alla fine di gennaio, quindi pochi giorni, poche settimane, quella dedicata a Burri e Brandi, un'amicizia informale fra il grande artista e il grande critico d'arte. Una mostra piccola, 23 opere di maestri del Novecento, però molto molto interessante, perché appunto ripercorre non solo l'amicizia fra Burri e Brandi, ma una parte importante della storia dell'arte del Novecento italiano. Peraltro c'è anche la possibilità ogni domenica di andare a visitare la villa di Cesare Brandi a Viglia. Bene, tutto per Di Sabato e andiamo a vivere comunque un sabato importante, soprattutto dal punto di vista dello sport, con gli appuntamenti del pomeriggio e della serata. A noi non rimane che salutarvi, Di Sabato torna, come sempre, Di Sabato.